amici del futsal ben trovati dal pala oggiata di roma da parte di matteo santi olympus roma ital service pesero dodicesima giornata della serie a new energy a distanza di una settimana dalla supercoppa giocata genzana e vinta dal pesero e due squadre si ritrovano di fronte nel big match di questo turno vattoni dandel dentro d'oliveira palo clamoroso colpito dall'ital service l'olimpus è già di là con marcelino assist diagonale profonda di toni dandella salvare tutto doppio squillo da una parte dall'altra cutrupi pressione fortissima del pesero sbuga cutrupi che fa correre isgro che la tiene in campo isgro assist per saccon che manca di un soffio l'appuntamento lancio di putano di oliveira la domestica all'attezza dell'angolo poi va la battuta pallone dentro perso completamente chito la palla intercettata da pires che parte col sinistro ducci riesce a chiudere poi sbaglia isgro d'oliveira pires dentro tres si gira fronte porta vada marcelino sia centra sinistro centrale putano ancora trovato marcelino arriva tres a rimorchio servito questa è molto più complicata di parata per putano che riesce ad allontanare mentre ducci lancia lungo per cutrupi grande stop di petto mancino di cutrupi centrale toni dandella dentro in mezzo ripartenza olimpus cutrignelli centralmente cutrupi putano arriva schinina l'ha presa ancora putano miracolo del pesaro d'oliveira il tocco per schiocchette che la alza cutrupi la riprende la mette giù dimas che prova a ripartire dentro da cutrupi al limite cutrupi putano super primo tempo di putano poi ancora cutrupi doppio pass prova ad accentrarsi oselito non parte dimas che la vuole sui piedi poi va veloce in avanti 1 2 con marcelino dimas ancora una volta putano grande primo tempo tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al pallaggiata di roma fra olimpus roma e ita service pesaro siamo 0 a 0 dopo i primi 20 minuti di gioco batte tres marcelino doppio scambio ancora tres finta al destro poi allarga per marcelino si salva in qualche modo il pesaro calcio d'angolo olimpus arriva tres addosso a schiocchette dimas puntatoni dandella si accentra e va da schinina di prima dentro la palla resta buona per schinina putano in calcio d'angolo schinina in mezzo d'oliveira ripartenza pesaro fortini centralmente per d'oliveira il pallone un po' arretrato lo tiene in campo 18 che poi va di assist toni dandell ducci risponde al suo collega cutrupi sbaglia l'appoggio la prende fortini isgro in pressione cutrupi per isgro putano cutrupi la sbloccata all'olimpus roma col cavaliere mascherato christopher cutrupi 1 a 0 ricicla da toni dandella schiocchette bel controllo passa su dimas non c'è fallo si gioca ripartenza dell'olimpus roma marcelino putano in calcio d'angolo chito là pires d'oliveira sovrappone pires d'oliveira si mette in proprio viene triplicato la perde poi toni dandell con schinina che vince il rimpallo schinina col mancino angelo lillo schinina il raddoppio dell'olimpus roma 2 a 0 a metà della seconda frazione batte l'otto suzionavano marcelino palla presa da d'oliveira che va giù ma è regolare l'intervento è schinina dimas marcelino assist palo marcelino tapin vincente 3 a 0 olimpus roma che scappa sul tripolo vantaggio pettina il pallone prova a partire punta gio a miguel gira in mezzalina schinina di tocco da marcelino in fascia contro chito là si accentra mancino e palo con schiocchetta che era rimasto in porta suona la sirena al pala olgiata l'olimpus roma vince 3 a 0 sull'ital service pesaro contro chito ffff 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 ffff